Ciao a tutti, come diventare la priorità per una persona? In questo video voglio spiegarti come diventare la priorità per una persona, per una persona che ti interessa. È importante riuscire a far sì che le persone ci valutino nel modo migliore, ci valutino nel modo giusto. Però per fare questo dobbiamo fare delle cose, nulla capita per caso. Prima di trattare il tema ti chiedo di iscriverti al canale, attivando la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video, di seguirmi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, di lasciare un commento sotto questo video, anche sui temi che vorresti fossero trattati. E poi se hai bisogno di risposte precise alle tue domande, a una quota simbolica puoi abbonarti al canale. Abbonandoti al canale potrai avere delle risposte alle tue domande. E quindi veniamo al tema come diventare la priorità per una persona. Allora, il punto fondamentale sembra banale ma è davvero fondamentale perché se tu non tieni presente questo punto non riuscirai a fare nulla. Il punto fondamentale è capire che valore ti dai. Se tu non sai che valore ti dai, che valore dai a te stessa o a te stesso, praticamente attirerai sempre persone che ti metteranno all'ultimo posto della loro lista. Ti metteranno davvero all'ultimo posto della loro lista perché non verrai valutata, non verrai valutato in nessun modo. Cioè ti considereranno come, come possiamo dire, come una persona di seconda scelta. Ti considereranno come una persona che ha poco valore. Quindi la prima cosa è devi dare a te stessa, a te stesso, un alto valore. Vuol dire esprimere un giudizio positivo da parte di te stessa, di te stesso, verso te stesso. Quindi questo vuol dire che devi installare dentro di te delle credenze profonde, delle credenze profonde di benessere, delle credenze profonde di capacità, delle credenze profonde di essere in grado di superare gli ostacoli della vita. Ecco, tutto questo devi farlo per te stessa o per te stesso. E anche il fatto di credere di non vivere in un universo, una natura materigna. Cioè la natura non è materigna. Se tu la percepisci in questo modo sarà così. Cioè noi crediamo ciò che pensiamo. Quindi questo è il primo punto fondamentale. Se pensi di non valere nulla, come puoi pensare che altre persone ti diano priorità? Intanto c'è anche da tenere presente una cosa, che i tuoi pensieri non sono qualcosa che si esaurisce nella tua mente. I tuoi pensieri diventano realtà. E allora devi creare una realtà positiva, se vuoi avere dei pensieri positivi. E questo devi tenerlo presente, è un fatto importante. Sei solo tu che puoi dare valore alla tua vita. Sei solo tu che puoi dare positività alla tua vita. E questo tienilo presente. Questa è la cosa fondamentale. Darsi un autovalore positivo. Poi c'è un secondo punto fondamentale che è legato all'autostima. Cioè devi recuperare autostima. Che differenza c'è tra il valore e l'autostima? Beh, il valore è quanto io credo di valere nei confronti... cioè quello che sia il mio valore nei confronti della vita. L'autostima è l'amore che io metto. Ecco, come dire... L'autostima è il carburante che serve a determinare il valore. Perché all'autostima sono collegate le emozioni. Le emozioni positive. Quindi una volta che io stabilisco di essere una persona di alto valore, affinché possa rafforzare questa concezione di essere una persona di alto valore, devo avere autostima. Autostima. L'autostima è fondamentale. Fondamentale perché è un po' il carburante che io metto nel farmi percepire una persona di alto valore. Ma soprattutto percepimi io. Quindi l'autostima è fatta da tutte le emozioni che vado a sperimentare, che vado a vivere. L'autostima è fatta di esperienze. È ovvio che se accetto delle cose che non dovrei accettare, la mia autostima scende. Se ad esempio tu pensi che una persona di valore è una persona che ha relazioni con persone libere, per fare un esempio, che diano priorità quindi, e tu poi accetti di avere una relazione con una persona sposata, che ovviamente essendo sposata sei la seconda scelta, perlomeno, beh, la tua autostima scenderà, perché tu hai un comportamento che va contro il valore che è importante per te. E quindi la tua autostima scende, cioè la percezione di te stessa, di te stesso inizierà a scendere. Ecco quindi che questi due punti sono fondamentali. E poi per diventare la priorità di una persona c'è ancora un terzo punto. Un terzo punto è fondamentale. Questo terzo punto è l'energia che tu metti nella tua vita. Cosa intendo con energia? Intendo proprio l'entusiasmo che tu metti nelle cose che fai. Entusiasmo significa enteosiasmos, avere Dio dentro, entrare in contatto con la divinità che è dentro di noi. Più entusiasmo hai, più trasmetti positività alle persone, più le persone diventano, tra virgolette, dipendenti da te, perché l'entusiasmo, come dire, induce dipendenza. Quindi se sei una persona che ha molto entusiasmo, viene cercata dagli altri. Non soltanto per, diciamo così, un passaggio breve, ma proprio diventa una persona molto ricercata, perché moltissime persone hanno bisogno di stare vicine a persone positive, di persone con entusiasmo, persone con gioia di vivere, persone con voglia di vivere. E queste persone qua creano, tra virgolette, dipendenze, cioè sono delle calamite e diventano la priorità. Ma guarda anche tu, se devi passare una serata con una persona sempre triste, depressa, che, diciamo, non ha nessuna gioia di vivere, è un'altra che invece ha un'enorme gioia di vivere, ha un entusiasmo, una persona che riesce a vivere bene la propria vita, beh, quale persona sceglierai? Sceglierai sicuramente questa seconda tipologia di persone. E allora devi metterci energia, devi metterci entusiasmo, appunto. E per fare questo devi lavorarci sopra, devi lavorarci sopra ed essere, come dire, ottimista verso il mondo, avere una grande gioia dentro, perché se la tua vita è piena di rabbia, di rancori, di risentimenti, come potrai dimostrare entusiasmo nei confronti degli altri? E poi c'è un altro punto fondamentale, l'ultimo per diventare la priorità per una persona, che è praticamente la capacità di distacco del risultato, cioè di prendere la distanza dal risultato, dal volere a tutti i costi piacere, e iniziare a diventare, tra virgolette, sviluppare, tra virgolette, un sano egoismo, cioè pensare alle proprie esigenze, e rendersi conto che se una persona non ti vuole, poverino, non sa quello che si perde, e quindi chi non ti vuole non ti merita, ecco questo è il discorso di fondo, quindi, e sono tutti intercambiabili, se Marco non ti vuole ci sarà Giovanni, Francesco, se Maria non ti vuole ci sarà Giovanna, Francesca, e quindi tu non devi stare a rimuginare, ah non mi è voluto questo, ah via fuori dai maroni, siete di bastoni fuori dai maroni, avanti un altro, col prossimo andrà meglio, non bisogna stare lì a pensare che, uh queste persone sono proprio le uniche persone che mi possono dare qualcosa, ma no, il mondo è pieno di persone che ti possono dare qualcosa, siamo tutti intercambiabili, ecco questo è quello che ti permetterà di diventare la priorità per una persona, la priorità poi per la persona che con la quale potrai instaurare un buon rapporto. mi raccomando, lascia nei commenti qua sotto quello che ne pensi, iscriviti al canale, attivando la campanella, e se hai bisogno di, diciamo, ricevere risposte precise alle tue domande, puoi semplicemente abbonarti al canale. Ciao a tutti!